buonasera a tutti e rieccoci ancora una volta siete sintonizzati su canno tv per vostra fortuna o per vostra sfortuna più la seconda che la prima per tornare a parlare di fumetti oggi riprendiamo l'argomento natan neveriano e dico riprendiamo perché è da parecchi mesi che non vi porto natan never sul canale perché purtroppo l'ho lasciato indietro e quindi adesso devo riprendere le letture di questa serie che mi piace molto la quale resto affezionato c'era anche una trilogia di scotos in attesa d'essere discussa su questo canale perché su tanti altri canali naturalmente è già stata discussa con esiti ammirevoli però ho deciso di aspettare la trilogia che arriverà la terza trilogia che arriverà a breve per poi magari fare un video insomma un po tutto insieme per dire le mie per blatterare un po le mie considerazioni a riguardo nel frattempo quindi recupero i numeri di natan never che sono usciti negli ultimi mesi di cui gli altri hanno parlato ma io no perché appunto non li ho ancora letti partendo dal numero 376 che è l'albo in esame insomma in questo video naturalmente non interesserà a nessuno perché l'argomento non è più d'attualità però io comunque vi lascio i miei pensieri perché insomma mi piace un po parlare di quello che ho letto e quindi vi presento il numero per l'appunto 376 intitolato un luogo felice dobbiamo tornare indietro di qualche mese più precisamente al settembre del 2022 quindi piano piano insomma recupererò tutti quanti i numeri aspettatevi un po di video su natan never tra i tra i tanti argomenti la copertina naturalmente è di sergio giardo una copertina piuttosto inquietante perché guardate il sorriso di questo natan never e questi tentacoli che riportano un po naturalmente alle tematiche lovecraftiane e anche un po a samuel stern perché io ho trovato insomma qualcosa di questo numero adesso io mi sono segnato le pagine vediamo un po le pagine 27 28 vi ricordano un po queste pagine questi demoni anche lo stile insomma di lettering no il il balloon scuro un po samuel stern a me sì a me ha ricordato un po samuel stern vi faccio vedere anche pagina per esempio 78 vedete questi questi tentacoli comunque che compaiono un po di volte c'è uno dei personaggi di dell'agenzia no in samuel stern che ha questi tentacoli sulla testa stile medusa qualcosa del genere però per esempio pagina 78 qui c'è un bel mostrone che appare e che non lo so mi ha ricordato un po samuel stern per certi versi questo numero di natan never in cui natan never tutto sommato un po poco presente rispetto al solito perché si parla di una sorta di virus natan che è stato infettato da questo virus un virus denominato hpl 37 e una dottoressa di nome dana che è l'unica in qualche modo capace di trovare l'antidoto diciamo solo che succedono un po delle cosettine strane nel corso di questa storia perché dopo questo prologo in cui vediamo natan che viene ritrovato oltre che contagiato gravemente ferito perché scopriremo che poi l'agenzia alfa era stata in qualche modo coinvolta nel recupero di questo virus che era stato sottratto da alcuni personaggi che poi sono anche quelli che hanno sparato insomma a natan never lui che era intervenuto per cercare appunto di riprendere naturalmente queste fialette che se diffuse potrebbero portare a seri danni subito dopo facciamo conoscenza di questa dottoressa che vive in questa in questo luogo felice così come viene denominato con il compagno si chiama ted o tom o qualcosa ted ted ecco qui il compagno e questo ambiente sembra perfetto igienizzato eccetera eccetera se non fosse che al di là di questa vetrata compaiono questi questi mostri tremendi terribili che in qualche modo impauriscono tormentano questa questa donna sola in questa casa assieme a questo compagno scopriremo poi in nel corso di questa storia che in realtà questa insomma questa dana ha subito in passato dei traumi proprio legati a questo virus nel tentativo di trovare l'antidoto insomma facendo varie sperimentazioni per trovare la cura questo virus ha perduto il compagno lei si sente responsabile per questa perdita e questa donna sarà ancora in vita effettivamente oppure sopravviverà soltanto parte di lei come si scoprirà poi nel corso di questa storia non ve lo dico perché forse insomma c'è qualcuno che non ha letto ancora questa avventura dopo di me però diciamo che questa storia ruota maggiormente attorno a questa donna donna nella quale in qualche modo Nathan anche si diciamo si si riconosce perché sappiamo che anche Nathan insomma nel corso della sua avventura nel corso della sua carriera di traumi e di cose irrisolte diciamo ne ha passate parecchie vedremo un Nathan contagiato da questo virus con queste evidenti occhiaie questo affaticamento questa perdita di capelli questo virus letale che può portare anche alla morte e che effettivamente conduce alla morte uno dei criminali che si è occupato del diciamo della della sottrazione no di questo virus da questi laboratori questo criminale che viene appunto anche lui contagiato non vi ho parlato degli autori di questa storia che sono andrea garagiola per quanto riguarda il soggetto e la sceneggiatura l'alfa com ci spiega che questo autore è comparso su come in qualità di sceneggiatore insomma su alcuni numeri dell'agenzia alfa e dei maxi di Nathan never ma da quello che ho capito a quello che ricordo dovrebbe essere l'esordio di questo sceneggiatore sulla serie regolare del personaggio quindi sulla serie regolare di Nathan never mentre invece ai disegni abbiamo francesca palomba che è al suo ultimo lavoro sulla testata di Nathan never non so per quali motivi perché non viene non viene non viene non vengono spiegate le motivazioni ci viene detto che la disegnatrice ha debuttato per quanto riguarda le tematiche Nathan neveriane su Lex Weaver nel lontano 1998 ma dovrebbe essere l'ultima prova come appunto disegnatrice sulla regolare di Nathan never salvo poi ripensamenti in futuro non lo so vi faccio vedere alcune tavole di questa disegnatrice che disegna un Nathan never con delle basette meno importanti del solito come potete vedere ed è un Nathan never un po particolare quello che disegna lei perché in alcuni punti secondo me è decisamente riconducibile allo stile di giardo quindi è un Nathan molto virile secondo me in alcuni punti con delle basette piuttosto pronunciate ma in altri punti vediamo un po se riesco a trovarvi qualche qualche immagine è un Nathan un pochino più più magro un pochino forse quasi un pochino più giovanile insomma del solito non lo so è un comunque un disegno che mi piace molto pulito vedete tanti retini e non so se sia frutto della disegnatrice oppure fosse già scritto nella sceneggiatura ho notato qualche volto un po familiare tra i comprimari di questa avventura per esempio se andiamo a pagina 11 io mi sono notato un po le pagine se andiamo a pagina 11 secondo me questo personaggio che compare assomiglia un po al caratterista stanley tucci volto ricorrente della cinematografia hollywoodiana contemporanea ma se andiamo a pagina 30 può essere che riconosciate un volto un pochino più famoso di quello di stanley tucci perché questo personaggio secondo me è michael douglas come potete vedere infatti si chiama proprio douglas e riconduce all'attore michael douglas che è un pochino più famoso di stanley tucci è un divo e non un caratterista insomma i disegni comunque mi sono piaciuti soprattutto nelle espressioni guardate per esempio che bella l'espressione di di questa dottoressa in questa vignetta anche qua i volti sono molto ben caratterizzati i retini secondo me sono ben utilizzati perché non vi è un uso massiccio per come la vedo io insomma restituiscono bene le ombre danno profondità mi è piaciuto lo stile di questa disegnatrice nonostante forse ecco uno stile così su altre testate secondo me è uno stile che si sposa in pieno con le tematiche nata neveriane e vi mostro ancora vedete queste ombre nette mi piace mi piace molto lo stile di questa disegnatrice la storia è secondo me è godibile priva di continuity quindi è un'avventura forse magari originariamente pensata per altre testate di nata never che magari oggi non esistono più però non ci sono delle dei riallacci alla continuity di nata never quindi è una storia che può tranquillamente leggere chiunque è una storia dove nata never tutto sommato compare poco o più che altro non è lui il fulcro diciamo della storia perché appunto ruota attorno ai ai alle questioni risolte di di questa dottoressa quindi c'è di questa di questa donna quindi c'è tutto questo discorso intimo nel quale nata never si riconosce appunto relativo a a questa a questa donna e alle seconde possibilità che non ha mai avuto fondamentalmente compare anche elania elmore con cui nata nei rapporti ultimamente un po burrascosi perché c'è un passaggio di di consegne per quanto riguarda la guida dell'agenzia alfa tutti questi discorsi che io fatico a starci dietro è proprio un mio difetto che non ho soltanto su nata never ma su tante altre testate e vedete anche come il volto di elania elmore secondo me è rappresentato benissimo insomma da questa disegnatrice per cui è molto secondo me molto belle le espressioni forse un po plastiche le pose in alcuni punti un po troppo nudi se mi permettete il termine i gli ambienti però ci sta è fantascienza fumetti per cui ci sta che insomma il l'impronta fantascientifica è riconoscibilissima e poi c'è natan con questo fascione che questi fascioni sia sul sul busto che che sulla che sulla testa li li vediamo dall'alba dei tempi sui fumetti bonelli da pex al piccolo ranger a zagono a certo punto c'è sempre un personaggio l'eroe di turno a un certo punto è sempre fasciato cosa dire bella avventura godibile leggibile non imprescindibile assolutamente nulla di imprescindibile secondo me si può anche fare a meno di recuperarla a tutti i costi insomma è un'avventura da da sufficienza e nulla più però è una lettura secondo me piacevole che cattura quella mezz'oretta per quella mezz'oretta per quella quarantina di minuti a seconda dei casi in terza di copertina veniva pubblicizzato il numero 377 che poi sarà anche il prossimo numero di cui su questo canale andremo ad occuparci per quanto riguarda la testata di natan never questo mio recupero che mi sento di voler fare certo punto bisogna recuperare tutto quanto grazie a tutti per l'ascolto non mancate di farmi sapere se naturalmente vorrete le vostre impressioni circa questa storia se ancora ve la ricordate grazie a tutti e ci rivediamo a voi piacendo al prossimo video ciao